Quattro giorni dedicate alla tecnologia in agricoltura, inaugurata la 36esima Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, in programma all'area fieristica di Borgomarena a Savigliano, fino a domenica. Un'edizione sempre più ricca per un settore sempre più strategico. Non a caso viene definito settore primario, perché primaria è l'importanza che ha, sia dal punto di vista dell'occupazione, del lavoro che crea, sia dal punto di vista dei temi e delle problematiche di cui si occupa. La Fiera cresce perché intorno alla Fiera c'è interesse, perché il distretto dei costruttori di macchine agricole presente in Piemonte ha una rilevanza nazionale ed internazionale. È un'edizione di conferma questa qua, è un'edizione nella quale la meccanizzazione agricola di Savigliano acquisisce maturità nell'identità che trova all'interno del contesto fieristico nazionale e non solo. La Fiera di Savigliano anche in questa edizione ha toccato punte che non pensavamo neanche noi di raggiungere. Oramai le richieste sono tantissime, le aziende presenti alla Fiera sono sempre di più. Da tutte le parti d'Italia vogliono e cercano di partecipare a questa grande e importante Fiera. Una Fiera che mette in mostra quello che è il Made in Piemonte soprattutto e quindi l'impegno, la ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese all'interno del mondo dell'agricoltura. La Fiera di Savigliano è certamente uno degli eventi più importanti del nostro territorio ma anche un evento importante a livello nazionale perché riesce a mettere in mostra quanto le nostre imprese stanno facendo per migliorare sempre di più quella che è la nostra agricoltura dando tecnologia appropriata e mettendo il mondo agricolo nella condizione di poter sempre andare ad innovarsi. Ogni anno è un passo in avanti per ridurre la chimica e aumentare la tecnologia ed è una strategia che la nostra agricoltura ha scelto e che sta dando buoni risultati.